A sciacca la raccolta differenziata multimateriale porta a porta dal 18 settembre prevede delle modifiche. Nelle giornate di mercoledì e sabato bar, pub, ristoranti, strutture ricettive, oltre all'umido dovranno esporre anche la frazione in vetro. Per carta, cartone, plastica e lattine e per le altre tipologie rimane in vigore il tradizionale ecocalendario. Ricordiamo inoltre a tutte le utenze che il giovedì nei Mastelli vanno solo rifiuti non riciclabili, niente abbigliamento. Una buona raccolta differenziata aiuta l'ambiente, il nostro futuro è quello dei nostri figli. Buongiorno e buon inizio di settimana. La Polizia di Palermo ha svolto accertamenti su più di mille trappagini, gruppi e profili social che agivano come vere e proprie agenzie di viaggio. 728 le pagine chiuse, altre sono in corso di chiusura. Promuovevano viaggi illegali per i migranti, dalle coste nordafricane a quelle italiane. In alcuni casi, per attrarre nuovi clienti, offrivano per prezzi scontati per donne e bambini, nonché veri e propri pacchetti viaggio per famiglie. Un'impresa agrigentina ha denunciato la truffa da 160 mila euro. Avrebbe stipulato un contratto per l'affitto di mezzi e materiale per dei lavori edili ottenuti in appalto in Lombardia, ma la società del nord a cui si erano rivolti non ha fornito quanto definito nel contratto. L'impresa si occupa di interventi edili e installazione di impianti, gas, acqua, riscaldamento e accertamento in corso da parte dei carabinieri. Quattro agrigentini coinvolti in una rissa tra clienti scoppiata nel punto di ristoro dell'hotel Città del Mare di Terrasini. A fronteggiarsi, per motivi in corso di accertamento, due gruppi, quattro persone di Favara, tre palermitani. I protagonisti della rissa prima si sarebbero insultati e per poi passare alle vie di fatto. Sono intervenuti i carabinieri che hanno denunciato sette persone per lesioni e rissa sul posto, anche i sanitari del 118. Come da programma sono stati presentati ieri sera i progetti, i bozzetti su carta dei carri allegorici che parteciperanno l'edizione 2025 del Carnevale di Sciacca, un momento celebrativo che ha segnato una delle giornate dell'evento estivo promozionale organizzato dal comune di Sciacca, a cui hanno preso parte ogni sera tanti giovani che hanno ballato con le musiche diffuse dal palco, dove si sono esibiti anche dei gruppi mascherati. Pagina sportiva, calcio. Lo Sciacca comincia bene la nuova stagione calcistica con una vittoria esterna. Con il risultato di 2-1 la squadra nero-verde si è imposta sul campo del Don Carlo Missilmeri, le reti di Galfano e Camerà in rimonta. In promozione doccia fredda per la Margheritese, battute nella prima di campionato 6-0 dal Bagheria. In Serie D, giornata nera per le Agrigentine, sconfitte per Acragas e Licata in casa e per la Castrum Favara in trasferta. Tanti runners e saccenzi in gara nel weekend podistico. Gli atleti di Sciacca Running e Polisportiva Gatocle hanno corso a Favara per la settima prova del Grand Prix provinciale e a Milazzo per la decima prova del Grand Prix regionale. In quest'ultima gara, Luana Russo si è classificata a seconda assoluta prima nella sua categoria ed ha migliorato il suo primato personale sulla distanza, portandolo sotto i 40 minuti. Al Grand Prix provinciale di Favara il migliore dei saccenzi è stato Antonio Puccio. Chiudiamo con il karate, trasferta poco fortunata per la Ippon Lentini a Salisburgo in Austria per una delle tappe della Karate One Series A. Emma Collette, la sua apparizione primaria nel massimo circuito internazionale, si è dovuta accontentare del settimo posto mentre Irene Marturano, Paolo Propizio e Niccolò Alfano sono usciti ai primi turni dalle eliminatorie. all'evento di karate hanno preso parte un migliaio di atleti in rappresentanza di 72 nazioni. È tutto per questa mattina, appuntamento alle prossime edizioni, restate con noi e buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.